Sabato 13 gennaio 2024, buona giornata da Davide D'Amicis, bentrovati al GR di Radio Speranza in Blu. È stato siglato ieri mattina a Basto nella sede municipale l'accordo di programma tra Regione Abruzzo, Comune di Vasto e Asl Lanciano-Vasto-Chieti per la realizzazione del nuovo ospedale di Vasto. A sottoscrivere il documento sono stati il presidente dell'Aggiunta regionale Marco Marsilio, il direttore generale dell'ASL Thomas Scheel e il sindaco di Vasto Francesco Menna. L'accordo di programma è finalizzato a definire aspetti collaterali ma propedeutici alla realizzazione del nuovo ospedale, come la variante al piano regolatore generale, la realizzazione delle opere connesse e di urbanizzazione necessarie alla piena funzionalità del nuovo ospedale. Posso dire che questo di Vasto rappresenta uno dei progetti più importanti realizzati nella mia carriera politica e amministrativa, ha dichiarato Marsilio. Tra l'altro, realizzare un nuovo ospedale è già una cosa notevole, in Abruzzo ne facciamo ben tre. Vasto è il secondo, dopo che ad Avezzano è stata già firmata la cessione dei terreni e il progetto sta già andando in gara ad appalto. Presto concluderemo l'iter anche per Lanciano, posso dire con un pizzico di orgoglio, ha aggiunto Marsilio, di aver centrato questi importanti obiettivi che segnano la fine di un'attesa che nel caso di Vasto prende corpo fin dagli anni 90. Il presidente Marsilio, nel ringraziare il direttore generale Antonio Sorgi per aver curato la regia del tavolo tecnico, ha rimarcato che ora iniziano la fase operativa e quella realizzativa. In sostanza, mettiamo il sigillo su tutta la procedura, sulla distribuzione delle responsabilità delle mansioni, sui compiti e anche sui finanziamenti che Regione Asla assicurano per la costruzione dell'intero ospedale, precisa il presidente della regione, quindi è davvero il punto di svolta. Il testo dell'accordo di programma è scaturito dal confronto tra i partecipanti al tavolo tecnico coordinato dal direttore generale della regione Antonio Sorgi, che ha evidenziato l'opportunità di trasferire al comune di Vasto la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria finanziate dall'azienda sanitaria per circa 15 milioni. La somma sarà coperta per 12,5 milioni con fondi residui derivanti dall'anticipazione conferita dal Consiglio regionale e per la restante parte con anticipazione da parte dell'Asl in attesa del finanziamento regionale. All'esito della sottoscrizione dell'accordo, voluto da tutte le parti in causa, il comune esperirà tutte le procedure necessarie nel ruolo di stazione appaltante. E ora parliamo di PNRR agricoltura, supportare investimenti per l'acquisto di macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione, sostituire i veicoli agricoli fuoristrada inquinanti con mezzi a zero emissioni e innovare i sistemi di irrigazione e gestione delle acque destinate a usi irrigui. Sono questi gli obiettivi del bando promosso dalla Regione Abruzzo, in particolare dall'assessorato all'agricoltura, finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al fine di fornire un sostegno concreto alle imprese che intendano investire in innovazione e digitalizzazione. La dotazione finanziaria è di 14 milioni e 600 mila euro. La domanda di sostegno dovrà essere presentata entro e non oltre il 26 marzo 2024. Il finanziamento sarà concesso sotto forma di contributo in conto capitale, con una liquida pari al 65% dei costi ammissibili, elevata all'80% per i giovani agricoltori. Il limite di spesa è di 35 mila euro, 70 mila euro per la sostituzione dei veicoli. I beneficiari del bando sono le imprese agromeccaniche, le micro, piccole e medie imprese agricole, e le loro cooperative e associazioni. Basata sulla raccolta e l'interpretazione dei dati, l'agricoltura di precisione mira a migliorare l'efficienza, la produttività e la sostenibilità delle attività agricole. L'obiettivo è quello di utilizzare tecnologie sempre più all'avanguardia, come l'internet delle cose, l'intelligenza artificiale, robotica, droni e sensori, per ottenere una gestione ottimale delle culture. Si tratta di una misura molto attesa da tutto il settore, dichiara il vicepresidente della Regione Abruzzo, con delega all'agricoltura Emanuele Imprudente, che permetterà alle aziende abruzzesi di puntare su innovazione e sostenibilità ambientale. Le tecnologie di ultima generazione saranno strumenti fondamentali per sostenere la competitività della nostra agricoltura e renderla sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale. E la Regione Abruzzo ha stanziato 350 mila euro al Comune dell'Aquila per la prevenzione dei danni da incendi. Si rafforza la strategia di salvaguardia del nostro prezioso patrimonio boschivo, dichiara il vicepresidente della Regione Abruzzo, con delega all'agricoltura Emanuele Imprudente, e con esso dell'esteso territorio arborato del comprensorio aquilano, che ha subito nel recente passato vere e proprie catastrofi, come i roghi di San Giuliano e Arischia, arrivati al ridosso delle abitazioni. Si tratta di una serie di azioni e interventi, spiega il Prudente, che mirano a ridurre il rischio e la gravità degli incendi boschivi, ad aumentare la sicurezza dei cittadini e a preservare le risorse naturali attraverso una gestione oculata delle aree forestali, incentrata sulla prevenzione. Il ministro dell'Istruzione del Merito, Giuseppe Valditara, sarà a Teramo mercoledì 17 gennaio. Lo ha annunciato l'assessore all'istruzione Pietro Quaresimale. Il ministro, insieme con l'assessore Quaresimale, alla presenza del direttore regionale dell'ufficio scolastico regionale Massimiliano Nardocci, incontrerà, dalle ore 10.15 presso il convitto nazionale Melchiorre Delfico di Teramo, i responsabili degli uffici provinciali e dirigenti scolastici degli istituti scolastici della provincia di Teramo. E c'è stata un'operazione anti-abusivismo ieri mattina al quartiere Rancitelli di Pescara, affiancata dagli agenti della Polizia Municipale, presenti con questi ultimi il sindaco Carlo Masci e l'assessore Isabella Del Trecco, la ditta incaricata ha iniziato la demolizione di un manufatto privo di qualsiasi autorizzazione e dell'annessa recinzione in muratura e ferro, sito in via Lago di Capestrano. L'attività segue una regolare procedura curata dall'ufficio sue del comune di Pescara per l'abbattimento di opere abusive realizzate sul suolo pubblico, ma i lavori di rimozione a opera del comune sono anche e soprattutto la necessaria conseguenza dell'inerzia, ovvero della mancata ottemperanza da parte del titolare del manufatto in questione realizzato in legno, a quanto disposto con ordinanza numero 759 del 4 ottobre 2023 a firma del dirigente del servizio anti-abusivismo. Il destinatario del provvedimento ha realizzato nel tempo una struttura in legno con recinzione in blocchi e ringhiera metallica attorno alla tettoia, creando un locale asservito a un circolo privato dotato di relativo servizio eugenico, tutto questo totalmente privo di ogni autorizzazione. Va inoltre precisato che lo stesso circolo, cui il manufatto in questione è asservito, è stato posto sotto sequestro preventivo lo scorso 3 novembre dalla questura di Pescara, in quanto luogo o teatro di attività ritenute illecite o illegali. E' un segnale chiaro da parte di questa amministrazione, ha detto il sindaco di Pescara Masci, che già più volte è intervenuta in quest'area della città per riaffermare il valore e rispetto della legalità. Da decenni questa struttura è stata utilizzata in dispregio delle norme, senza parlare dei recenti provvedimenti della questura che hanno coinvolto questo circolo. E' un'azione che conferma la nostra forte attenzione per le periferie, perché abbiamo il preciso obiettivo di impegnarci, affinché le aree sensibili di Pescara, come Madonna del Fuoco, siano luoghi dove le famiglie per bene possano vivere più serenamente. Stiamo cambiando il volto di questo quartiere, ne siamo orgogliosi. Ieri mattina a Pescara si è svolto il primo consiglio provinciale, dopo le elezioni avvenute lo scorso 21 dicembre, in cui sono stati eletti 12 consiglieri, tra sindaci e consiglieri dei 46 comuni della provincia di Pescara. I nuovi componenti del consiglio provinciale sono Gianni Chiacchia, Piero Giampietro e Alberto Bartoli per Pescara Provincia Nuova, e poi Davide Berardinucci e Filippo Maria Mariani di Fratelli d'Italia, Giovanni Mancini del Polo Civico, Giorgio De Luca, Emilio Camplese, Gianfranco De Massis e Augusto Recchia di Forze di Libertà, e ancora Antonio Romano e Gabriele Colasante di Lega per il Territorio. All'ordine del giorno della seduta di ieri sono stati discussi due punti, il primo riguardante la convalida dei consiglieri provinciali eletti, approvato all'unanimità, mentre il secondo punto riguardante la proposta relativa all'aggiornamento del programma di governo, ha visto l'assenzione solo del consigliere Gian Pietro, che ha portato all'attenzione dei presenti e anche il problema del dimensionamento scolastico attuato in alcune scuole, in particolare la decisione di accorpare gli istituti di Penne e di Pescara. Il presidente De Martini si ha replicato, esprimendo il suo disappunto per la decisione degli accorpamenti nel pescarese, e ha comunicato che in una lettera indirizzata al presidente dell'Aggiunta regionale, Marco Marsilio, e al presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha chiesto la riformulazione della delibera regionale, soprattutto alla luce della scoperta, che la provincia di Teramo, città di provenienza dell'attuale assessore regionale alla pubblica istruzione, è stata esonerata dal piano. Il posto italiano rende noto che per i cittadini di Pescara e provincia è possibile richiedere online documenti utili ai fini ISEE, indicatore della situazione economica equivalente per il 2024. Per ottenere in tempo reale la certificazione, che racchiude in un unico documento i dati dei rapporti intercorrenti con posto italiane, è necessario essere registrati a www.poster.it e aver associato un numero di telefono ad uno dei prodotti finanziari. Il documento che viene messo su richiesta dell'intestatario raccoglie tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE relative ai prodotti finanziari. In particolare, riporta saldo e giacenza media dei conti e dei libretti di risparmio attivi e estinti nel corso dell'anno 2022, valore nominale dei buoni fruttiferi postali, cartacei e dematerializzati, saldo e giacenza media della poste pay nominative, delle poste pay con IBAN e delle carte enti previdenziali, situazione dei fondi di investimento e del deposito titoli, attestazione dei premi versati per polizze assicurative. E andiamo al comune di Montesilvano, dove da ieri Daniela Renisi riveste il ruolo di assessore al turismo in sostituzione di Deborah Comardi, candidata con Fratelli d'Italia alle elezioni regionali. Renisi, esperta di turismo, presidente di Federalberghi e titolare di una struttura alberghiera a Montesilvano, ha assunto una dalle deleghe più importanti dell'amministrazione comunale, trainata dal sindaco Ottavio De Martinis. Dopo le dimissioni di Comardi, spiega il primo cittadino, volevo un nuovo assessore che continuasse a svolgere in maniera competente il lavoro iniziato in questi anni e ho pensato subito a Daniela Renisi, una delle professioniste del settore più competenti di Montesilvano. Parlando con lei, nei giorni scorsi mi sono convinto ancora di più della bontà di questa operazione e oggi voglio regalare al territorio una figura che per competenza, professionalità e passionalità potrà donare qualcosa di bello alla città. Nonostante l'emozione del debutto, Daniela Renisi ha già le idee chiare su cosa fare nei prossimi mesi. Questa per me è casa a Montesilvano, conosco gran parte degli amministratori e dipendenti, ha spiegato la neo-assessora, e l'intento è di far crescere Montesilvano. E la prima cosa, questa sarà un'esperienza arricchente, avrò modo di imparare come funziona la macchina amministrativa, cercando di essere anche un balsamo per la città per portare un po' di vitamina C nel settore del turismo. E oggi, sabato 13 gennaio 2024, la Chiesa celebra la memoria liturgica di Sant'Irario di Poitiers. In chiusura siamo al meteo, sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso, nuvoloso sul settore adriatico, in particolare nel Pescarese e nel Chietino, occasionalmente anche nel Terramano, ma con nubolosità, in graduale attenuazione nel corso della giornata, poco nuvoloso sulle zone interne montuose, con aggerate diffuse durante le ore serali, notturne al primo mattino di domani. Un nuovo graduale aumento della nuvolosità è previsto nella giornata di domenica, ad iniziare dalla Marsica, dall'Aquilano e dall'Alto Sangro, con possibili precipitazioni sparse, più probabili sull'Alto Sangro, nevose sui rilievi. Anuvolamenti e schiarite interesseranno il settore orientale e costiero, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature saranno un'ulteriore diminuzione, specie nei valori minimi, congelate e diffuse nelle valli interne della Marsica, dell'Aquilano e sull'Alto Sangro, ma localmente anche nelle pianure e nelle valli che si affacciano sul versante adriatico. Un graduale rialzo delle temperature è previsto da domenica. I venti saranno deboli dai quadranti settentrionali, con residui rinforzi nella vastese in mattinata. Dalla serata di domenica tenderanno a provenire dai quadranti sud-occidentali, rinforzando. Il mare sarà generalmente mosso, localmente molto mosso. Le previsioni sono a cura di Giovanni De Palma, direttore di abruzzometeo.org. E con questo è tutto, Davide D'Amici se vi ringrazia per l'attenzione e vi augura un buon proseguimento con Radio Speranza in Blu. Grazie a tutti.